Noi come gruppo del Movimento 5 Stelle del terzo municipio stiamo rinunciando a un gettone presenza, ma non solo al gettone, stiamo rinunciando a 50 euro, che è l'equivalente di questo gettone presenza. Per dare l'esempio, anche nel piccolo, che alcuni consigli e commissioni superfile, convocate in un modo veramente superfluo e superficiale, dobbiamo proprio dare l'esempio, anche nel nostro municipio, di un senso di restituzione. Dobbiamo restituire anche quel poco che non ci appartiene, perché questo gettone, che è derivante da un consiglio straordinario, che poi è stato revocato dalla maggioranza, e stiamo appunto devolvendo questo gettone come? Abbiamo fatto un sondaggio, un sondaggio sui nostri canali social e web, per chiedere la cittadinanza come devolvere questi 50 euro. Io e il mio collega, in municipio, devolveremo appunto 100 euro, e abbiamo fatto questa proposta a tutti i consiglieri, anche di maggioranza, per far sì che questa somma sia maggiore. Ovviamente le priorità che ci hanno richiesto i cittadini sono sul sociale e sulla scuola. Stiamo lavorando per questo, vi aggiorneremo quando alla fine avremo delineato a chi dare e come dare questi soldi. Bisogna dare l'esempio prima di tutto, anche nel piccolo. Grazie.